vediamo box cosa questo no invece almeno un po che voglio vedere un po le cose tanto lo sai che non si possono prendere no gli altri anche la castigatura poi vabbè non ci sto guarda col cecchino allontanati vai dove sta la palla vai dove sta la palla vicino alla palla fermo là ce l'hai un cecchino con cui guardare ok guarda no 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 aspetta dai puoi vedere mi sto fidando eh ci stai? vai là droppa le tue armi no no da vicino non da vicino vai alla palla tanto io in questo tempo ho venuto a saltare un po' no no bro dai droppa va bene ora vai là ora vai là vai là dove di solito sta la palla droppa le due armi cosa si può costruire? ok castigatura castigatura cosa vedere giusto? ok a mio via corriamo eh 3 2 1 via dai vieni a riprendertela dai vieni a riprendertela dai vieni a riprendertela oh nick nick dai no tieni stanno qua vieni niente era uno scherzo dai vieni su oh bro oh però la whisper cosa vuoi per la whisper aspetta ti devo venire ad aprirla aspetta bro dove stai? in casella in casella stai bro in casella stai ah eccoti allora aspetta aspetta tieni questa poi che altro modo ecco questa questa dai ti faccio pure l'omaggio vieni vieni ok ora torna dall'altro lato ora cosa vuoi scambiare? aspetta allora due secondi non è che è piaciuto? quindi raga la truffa ha funzionato provatela con gli amici e poi ovviamente ridate gli armi perchè sono fin cavolo come lui vabbè raga eh si stavo registrando vabbè raga bella no 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 Grazie a tutti.